Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di 7 curiosità su Flavio Briatore, uno degli imprenditori più famosi e controversi d'Italia. Siete pronti a scoprire cose che forse non sapevate su di lui? Allora restate con me fino alla fine del video. Vi assicuro che rimarrete a bocca aperta. Flavio Briatore è nato a Verzuolo, in provincia di Cuneo, il 12 aprile 1950. Da giovane ha svolto vari lavori, tra cui il maestro di sci, il cameriere e il venditore di assicurazioni. La sua carriera è decollata quando è entrato nel mondo della Formula 1 come direttore sportivo della Benetton. Da allora ha gestito vari team e piloti vincenti, come Michael Schumacher, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Ma Flavio Briatore non è solo noto per i suoi successi sportivi, ma anche per la sua vita privata movimentata e le sue frequentazioni con donne bellissime e famose. Tra le sue ex ci sono Naomi Campbell, Heidi Klum e Elisabetta Gregoraci. Attualmente è sposato con la modella Benedetta Bosi, di 50 anni più giovane di lui. Ecco quindi le 7 curiosità su Flavio Briatore che forse non conoscevate. Numero 1. Ha una figlia segreta. Si chiama Helen ed è nata nel 2006 dalla relazione con Heidi Klum. Flavio Briatore non ha mai riconosciuto la paternità della bambina. La piccola viene infatti chiamata Lenny ed è stata adottata dal marito di Heidi Klum, il cantante Syl. Numero 2. Ha avuto vari problemi con la giustizia. Ad esempio, nel 2010 è stato coinvolto nello scandalo del crashgate, ovvero l'incidente provocato volontariamente dal pilota Nelson Piquet Jr. per favorire il compagno di squadra Fernando Alonso nel Gran Premio di Singapore del 2008. Per questo fatto è stato squalificato a vita dalla Federazione Internazionale dell'Automobile, ma poi ha ottenuto l'annullamento della sanzione in tribunale. Numero 3. Ha una passione per i ristoranti. Flavio Briatore possiede infatti diversi locali in giro per il mondo, tra cui il Billionaire Club, il Cipriani, il Tuiga e il Sumosan. I suoi ristoranti sono frequentati da VIP e personaggi dello spettacolo. Offrono cucina italiana e internazionale di alta qualità. Numero 4. Ha partecipato a vari programmi televisivi. Tra i più noti ci sono The Apprentice, dove ha fatto da mentore a giovani aspiranti imprenditori, Celebrity Masterchef, dove ha sfidato altri VIP ai Fornelli, e Grande Fratello VIP, dove ha fatto da opinionista al fianco di Alfonso Signorini. Numero 5. Ha una fondazione benefica. Si chiama Flavio Briatore and Family Foundation, ed è stata creata nel 2010 con lo scopo di aiutare i bambini africani affetti da IDS. La fondazione sostiene vari progetti umanitari in Kenya, dove Flavio Briatore possiede anche un resort di lusso chiamato Lion in Thesan. Numero 6. Ha un patrimonio stimato di oltre 400 milioni di dollari. Flavio Briatore è uno degli uomini più ricchi d'Italia e del mondo. Oltre ai suoi guadagni nel settore automobilistico e della ristorazione, ha investito anche in altri ambiti, come l'immobiliare, la moda e il calcio. Tra le sue proprietà ci sono ville, yacht, jet privati e auto di lusso. Numero 7. Flavio Briatore ha un profilo Instagram seguitissimo. Ha infatti oltre 1,5 milioni di follower che lo seguono per vedere le sue foto e i suoi video in cui mostra la sua vita da jet setter. Flavio Briatore condivide spesso momenti della sua famiglia, dei suoi viaggi, dei suoi affari e delle sue passioni. Tra le sue foto più popolari ci sono quelle in cui appare con la moglie Benedetta, con i suoi amici famosi e con i suoi animali domestici. Ecco qua, queste erano le 7 curiosità su Briatore che volevo condividere con voi. Spero che vi siano piaciute e che abbiate imparato qualcosa di nuovo su questo personaggio così discusso e ammirato. Se vi è piaciuto il video, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti.